Charlie Rowley, l'uomo rimasto avvelenato dal Novichok nel Regno Unito insieme alla compagna Dawn Sturges, ha raccontato che l'agente Nervino si trovava nascosto all'interno di una bottiglia di profumo. L'uomo l'aveva trovato e l'aveva regalato alla compagna, che ha in seguito perso la vita a causa del veleno. Rowley non ricorda dove ha trovato la scatola. Era una scatola di circa 10 per 10 centimetri, che conteneva una bottiglia di vetro. Mi sono un po' sporcato le mani, ma le ho sciacquate sotto il rubinetto. Nella sua prima intervista televisiva, dopo i fatti, Rowley ha raccontato che la donna si è sentita male un quarto d'ora dopo essersi spruzzata la sostanza sulle mani. Sturges, 44 anni, è morta una settimana dopo. Mi ricordo di lei che si spruzzava il profumo sui polsi e penso li abbia strofinati. Penso siano passati credo 15 minuti. Dawn ha detto che aveva mal di testa. Mi ha chiesto se avevo delle compresse per il mal di testa. Sono andato nel bagno e l'ho trovata lì, completamente vestita, riversa nel bagno, molto malata. L'avvelenamento della coppia è avvenuto quattro mesi dopo quello dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia. Un caso per il quale il Regno Unito ha accusato la Russia che però ha negato ogni coinvolgimento.